E uso l'espressione politica intendendo unicamente diritto e dovere di una società di darsi democraticamente delle regole, non parlo di questo o di quell'istituzione, un mercato senza regole è un mercato che in qualche modo ha un deficit o se volete ha una debolezza strutturale che può poi determinare quello che è sotto gli occhi di tutti. Quindi non si può, come si è fatto fino a qualche tempo fa, dire ma la politica intesa come capacità democratica di dare delle regole si tira indietro, perché poi vediamo che fenomeni complessi quando non hanno regole rischiano di sfuggire completamente al controllo. Quindi sono questioni che a pieno titolo è lecito definire questioni di tipo culturale, quindi anche di tipo politico. In tutto ciò io credo che il mondo della comunicazione, questo mondo fatto appunto di interrelazioni tra vari soggetti, ma anche il mondo della comunicazione culturale nel senso più lato, cinema, televisione, abbiano o possano avere un ruolo importante. Non fosse altro che per cercare di cogliere un po' quello che è lo spirito del tempo in cui viviamo. Si dice sempre, ed è vero, siamo in una fase post-ideologica, siamo usciti dal secondo millennio, ci siamo affacciati al ventunesimo secolo, sono tutte cose vere, al tempo stesso poche volte ci chiediamo se questo dato di verità sta portando all'individuazione di uno spirito del tempo nuovo in cui viviamo. Mi rendo conto che è difficile almeno a me esprimere che cosa davvero intendo dire con questo, ma voglio fare un esempio. Uno degli archetipi valoriali, uno dei punti di riferimento, come dire, obbligatori della nostra cultura, della cultura occidentale, dalla rivoluzione francese in poi, è nel valore della libertà. E non c'è ombre di dubbio che la libertà è intesa come libertà dalla coercizione, quindi libertà dalla negazione di quello che è il diritto fondamentale dell'uomo di non avere limitazioni se non quelle stabilite dalla legge. Quindi c'è questo aspetto di libertà che è tipico del secolo scorso, libero nei confronti di una dittatura o di un'autarchia. Poi c'è una concezione di libertà che è la libertà in qualche modo legata ad una certa visione della società, libero dal bisogno. Non voglio scomodare anch'io tutto un filone di cultura e di pensiero che pur ha fatto la storia del secolo scorso, tutto il grande filone in qualche modo che si riconnette non solo al socialismo ma alla dottrina sociale della Chiesa. Un uomo non deve essere libero solo perché non c'è la dittatura, deve essere libero dal bisogno. Amici, oggi non siamo in una fase in cui c'è anche una terza accezione della libertà, che è la libertà di essere se stessi, la libertà di poter acquisire notizie, la libertà di poterle comunicare, la libertà in qualche modo di poter vivere secondo un certo stile e modo di vita. Ecco, a volte proprio l'industria cinematografica, la televisione, internet, tutto ciò che passa attraverso le telecomunicazioni e le reti incide su questo modo, se volete, di concepire un valore fondamentale, qual è il valore della libertà, molto di più di quello che si può pensare e magari molto di più di quelli che possono essere i dibattiti cui tradizionalmente si dedica la politica e il giornalismo. Ecco perché, e spero di aver dato un senso compiuto al mio ragionamento, occupare, come dire, il proprio tempo, dedicarsi a momenti di confronto della natura di quello che questa mattina ha organizzato la Fondazione Barbareschi, significa, secondo me, far crescere almeno un livello di consapevolezza. Le istituzioni non possono, perché perderebbero un'occasione, guardare tutto ciò con lo spirito di staccato, come se fossero finestre neutre. Da un lato perché, se aumenta la qualità complessiva della società, aumenta la qualità, in qualche modo, della democrazia e delle istituzioni. Ma soprattutto, e voglio concludere così, perché sono personalmente convinto che se vogliamo ridare alle istituzioni, quindi alla politica, quella centralità di cui si parla, o se vogliamo ridarle quella capacità di comprendere i fenomeni, quindi poi di guidarli, beh, necessariamente dobbiamo impegnare la politica e le istituzioni sulle sfide più ardue. Ci si può limitare, in qualche modo, a prendere atto di ciò che esiste e a cercare di regolarlo nel modo migliore. Credo che se la politica vuol provare a tornare ad essere un soggetto, in qualche modo, attivo in un dibattito culturale, deve sforzarsi, non soltanto di guidare quel che c'è, ma di immaginare ciò che c'è dietro l'angolo. In qualche modo di mettersi un po' in rete, oltre che in discussione, cercare di vedere se quel futuro di cui tutti parlano, poi è davvero tutto nelle nostre mani, o se al contrario ci sono quote di futuro che sono ormai fuori da quello che è il controllo, non soltanto degli individui, ma quello che è il controllo dei popoli, degli stati. È un auspicio questo di una politica di più alta qualità destinato a cadere nel nulla? Io non credo, francamente. Non credo. Certo è che, tra i tanti problemi che scontiamo, c'è quello poi di veicolarli certi messaggi, di renderli intelligibili certi dibattiti. Ecco perché concludo così come ho cominciato. Fin quando tutto apparteneva ad una sorta di circolo ristretto in cui i giornali, i libri, le accademie, le università, era certamente assai più difficile portare fuori. Oggi, nel momento in cui la comunicazione e anche la divulgazione di messaggi, di valori o di disvalori culturali, è un fenomeno di tipo industriale, un fenomeno di tipo globale, non si può trincerare dietro il dito e dire ma tutto sommato è inutile perché poi non si riesce a comunicare. La possibilità di comunicare c'è ed è enorme. Il problema non è più, per citare McLuhan, se non ricordo male, il mezzo. Il problema è il messaggio. E credo che la politica, nel momento in cui è consapevole della quantità di mezzi e delle autostrade che ha dinnanzi debba preoccuparsi molto della qualità dei messaggi. Grazie, grazie Presidente. Grazie a tutti voi per aver partecipato. Grazie.